scusate per le randall si cosa fai? ah ma stavi registrando tutto sto tempo? no, tschüss perchè eri zitto vero? no qualche volta parlavo e cosa dicevi? frazzato come sempre ah no ah no se sempre nelle fra oh mio tio randall eh vai sempre randall mi sono modificato l'armatura bravo e il piccone bravo hai del le sasso io la spada hai del sasso sasso no 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 se vuoi c'è la moston perchè abbiamo solo così poco vetro ah ecco ah ecco ti metti sempre in mezzo ahia io sto costruendo davvero guarda ah sei in mezzo togliti togliti che sei in mezzo mi son tolto randall ti devo uccidere guarda io sto passando e tu sei sempre in mezzo poi dici di me si la porta la porta non c'è ah fantastico perchè c'è un buco così immenso mmm il mob spawner no ma adesso veramente la porta è qua mi serve solo la porta che casino la portal trollface eh non ho sentito la portal si uno dei migliori giochi che ci sono di cui ho fatto anche il let's play si l'ha finito portal si uno si sono riuscito a finire due devo ancora iniziare il 2 cioè a finire ho iniziato il let's play e poi in mezzo mi sono interrotto mi sono fermato così non il mezzo ehm all'inizio spero allora ragazzi aspettate un attimo torna tra 5 minuti al massimo non tornerà più devo preparare la borsa poi devo andare e ci lascia sciogli soli soli ehm come facciamo aia non era questo l'intenzione ma vabbè così tanto le ne abbiamo abbastanza lag e anche di scala in teoria ne avremmo abbastanza ma non voglio prenderle ehm togliamo qua ehm ehm eccomi ciao gandara ciao ciao ok 4 minuti e vado ok 4 minuti e vado conciuto bene naturalmente sono ironico prendo uso la palla per trovare il modo sponere che c'è sull'altra isola non è stato tutto tipo mob tre portali distrutti 2 2 scusa si possono riaccendere non importa che culo quasi quasi beccava beccava perchè il tuo amico ha peggiorato così cosa ti stai prendendo niente il tuo amico quale amico amico perchè il tuo amico il micro il tuo microfono ah perchè è peggiorato si si sente di meno no qualità peggiore ora comunque buona adesso non più ah allora vuol dire che era la mia voce perchè parlavo così poco in un modo simile è al microfono no si palde di neve perchè perchè non riesco a colpirti eh perchè non va no no secondo te almeno c'è un mob spawner su quest'isola boh eh secondo te penso di si secondo me c'è tipo una cobblestone nascosta mmm può darsi può darsi in teoria abbiamo finito le missioni sai si in teoria mi sembra abbiamo costruito tre case poi cos'è che manca abbiamo abbiamo fatto il cartello tre case è la seconda volta che lo dici abbiamo finito le missioni abbiamo fatto tre case trovato il lì il mob spawner ma non so se sono tutti quelli che abbiamo trovato si abbiamo finito quanti sono scusa boh no intende quello lì raro mi sa quello che ti ha dato tutte le cose ah ok in teoria abbiamo finito in teoria in pratica in pratica anche e per questo non mi tengo più alle regole cosa stai cosa ti sei preso? adesso vedi oh merda oh merda aiuto aia mi ha preso comunque cosa hai preso? lo tnt? no ce l'ho già tnt cosa hai preso allora? il lever per farlo attivare aiuto non ho nemmeno attivato il scappo appunto perchè ho sbagliato a metterlo nooo 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 andate nooo cosa ci facevi video c'è la tanta infatti vedi pieno di cacca per terra ho visto si adesso come risalgo non sali non sali non sali vedi qualche vedi qualche vedi qualche vedi qualche? io mi sono citato delle mele io mi sono citato delle mele tieni con la palace utile la prima che mi è capitata ti ho distrutto l'elmo ops cosa tu sei preso? niente cosa fai? arco e frecce nob tanto sai che son più forte io alnegherai no cazzo hai perso della vita? hai perso si perso perdo vita ma la sto continuamente recuperando hai perso le tue scarpe